Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il chilometro di coda tra Pisa Centro e la diramazione per Livorno in direzione Rosignano, sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti tra Impoli e Impoli Est per lavori, in direzione Mare rallentamenti tra Impoli e il Bivio Pisa Livorno per traffico intenso, sul raccordo Siena Firenze per lavori code a tratti in entrambe le direzioni tra Monteriggioni e Badesse. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.